Ciao domani Ciao Mettiti il casco No, se no mi spettino Presto, presto, chiamiamo l'ambulanza Sì, sì Ambulanza Giuliano Direzione Torino Quante persone coinvolte? Ne prendiamo la bravo 4 Odiamo, vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai Vai, vai 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 al motorino e una mia amica ha chiamato subito i soccorsi. Ero preoccupata, agitata, ma i volontari sono venuti e mi hanno tranquillizzata. D'ora in poi userò sempre il casco. Quando mia nonna ha avuto l'infarto i volontari sono arrivati prontamente e l'hanno portata al pronto soccorso. Adesso mia nonna sta bene. Una volta invece mi sono fatta veramente male, sono caduto dalle scale di casa mia provocandomi una lustrazione, però quel giorno i volontari dell'Avapc sono corsi subito da me. L'Avapc ha tenuto un corso a tutti noi, alunni di terza media. Ci ha aiutato a conoscere le malattie, ma soprattutto ci ha sensibilizzato al volontariato. E così noi abbiamo capito l'importanza di questa organizzazione. Se sei una persona sensibile, se tieni alla tua salute quella degli altri e se vuoi bene al prossimo, diventa anche tu un volontario! Ogni tua mossa salva una vita! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!